Mi hanno insegnato, mi hanno raccontato la storia di questa grandissima maglia, quindi fatta di sofferenze, lotte, ma soprattutto gioie e soprattutto mi hanno insegnato quasi il non mollare mai, quindi devo solo ringraziare, ringrazio voi. Grazie Cristian davvero. Credo che Alessandro abbia portato un pensiero per Cristian. Intanto io, dei padri e figli, giustamente sono venuto a accompagnare. E lei che ha guidato? Ha fermato la polizia, ma insomma la convenza che... Niente, questa qui è una targa di riconoscimento a te perché mi sei stato...